Bella a tutti frienze, benvenuti in un nuovo video, ci duriamo su Fortnite Ho appena terminato le sfide della settimana 1 di questa stagione 9 Non sono state particolarmente difficili a parte la granata ombra che non riuscivo a trovare mai e proprio mai Comunque al termine di tutte le sfide andremo a sbloccare questa schermata di caricamento che vi metto in grande Come potete vedere la prima cosa che appare è la skin rapace in versione femminile Perciò aspettiamoci nello shop questa skin, andremo a vedere e andremo ad analizzare insieme A me da qui non mi piace tantissimo Comunque soffermiamoci su dove si trova la stella segreta I più attenti tra di voi già si saranno accorti che sulla minicamp ci sono delle coordinate Esattamente i5, j5, i6, j6 Perciò spostiamoci nella mappa di Fortnite Andiamo a selezionare una di queste qualsiasi modalità Eccetto la modalità creativa e parco giochi Io ad apprendere modalità singolo Tanto prendiamo la stella e possiamo subito acquittare Mi sono buttato ora dal bus della battaglia Allora andiamo a vedere insieme I, eccola qui, j, eccola qui, 5 e 6 Quindi uniamo tutte queste quattro coordinate Dovrebbero estanziarsi su questo punto esatto Andiamo a vedere se si trova lì dove ho pingato Eccola qui signori Andiamo a ricercare E infatti la stella si trova esattamente in questo punto Tra sotto rifugio ritirato E sopra la pista dei go-kart Ci facciamo pure tanto possiamo anche farci rillare Perché comunque la sfida sarà stata presa Ecco qui come potete vedere sono salito di livello Perciò mi raccomando prendere le stelle e stendare i segreti Anche perché più avanti andremo a vedere Quale sarà la skin segreta di questa stagione 9 Signori spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Condividete con tutti i vostri amici Almeno anche loro riescono a vedere dove si trova questa stella segreta Della prima settimana della stagione 9 Noi ci vediamo più tardi con altri video Mi raccomando iscrivetevi a questo canale se ti interessano le stelle segrete E tutte le sfide di questa stagione 9 Detto questo ci vediamo questa sera con la live E le belle mesami